Buongiorno a tutti e bentornati a questa nuova puntata della nostra rubrica Quello che i media non dicono. Oggi vorrei parlarvi di Trump, quello che nei fatti sta facendo contro l'ordine mondiale. Naturalmente non sappiamo mai niente di tutto questo del mass media perché i mass media sono fautori di questo nuovo ordine mondiale, sono finanziate dalle banche le quali stanno organizzando un colpo di stato mondiale. Quindi naturalmente queste informazioni non le sentiremo mai e poi mai dire dai mass media che anzi odiano Trump e non è un caso. Uno dei primi atti di Trump, pochi sanno, è stato, quando è arrivato appunto alla Casa Bianca, è stato un ordine esecutivo dove si iniziava una vera e propria caccia a tutti gli individui che sul pianeta, ecco, quindi su tutto il pianeta commettevano traffici di esseri umani. Il traffico di esseri umani in realtà è un vero e proprio dramma, soprattutto quello dei bambini. E questo perché? Perché l'elite ha il vizio in qualche modo della pedofilia, del pedosatanismo. So che questa cosa per alcuni potrà essere motivo di discredito, ma vi assicuro che è così, insomma. Fanno determinati riti in cui usano i bambini, in poche parole. E quindi questa lotta, la pedofilia a livello globale, è una lotta all'elite di fatto, tant'è vero che ha portato anche all'arresto e all'omicidio, al suicidio, scusate se è mai avvenuto per davvero, di Jeffrey Epstein, una cosa di cui non abbiamo sentito molto parlare nel nostro paese, ma era proprio colui che organizzava i festini per l'elite sulla sua isola e a questi festini c'erano anche bambini, c'erano bambini che ufficialmente spariti un po' da tutto il mondo. E oltre a questo, un'altra cosa molto importante che è una vera e propria vittoria di Trump ed è un'altra cosa che non sentirete mai su questi mass media, è la scomparsa degli Stati Uniti, della United States Incorporated, in pratica, in buona sostanza, dal cosiddetto SEC. Che cos'è il SEC? Allora, il SEC è un ente regolatore del mondo finanziario che serve, la cui iscrizione è indispensabile per divenire un soggetto finanziario, quindi partecipare al mondo finanziario. Ebbene, tutti gli Stati del mondo, o quasi, sono inseriti in questo SEC. Il punto qual è? Che chi si iscrive al SEC deve essere un ente di diritto privato. Quindi le nazioni, a questo punto, che sono i trattari pubbliche, sono enti di diritto pubblico, perché sono iscritte al SEC e diventano in questo modo enti di diritto privato? È una cosa molto, molto particolare, anche perché in questo modo si sancisce anche il dominio della finanza globale, perché se non ti iscrivi al SEC non puoi fare nulla a livello finanziario. Quindi è un vero e proprio status di dominio, insomma, della finanza internazionale, anche sulle nazioni. E, pertanto, l'Italia è iscritta a questo SEC dal 1933 con il nome Republic of Italy Corporation. E questo fa molto, molto pensare. E quindi il fatto che siano spariti gli Stati Uniti da questo elenco SEC, quindi non sono più una corporazione, fa pensare al ripristino dell'ente di diritto pubblico, al ripristino quindi del pubblico sul privato e quindi al ripristino in qualche modo dalla democrazia. E, tra l'altro, Trump, in piena emergenza epidemica, ha assorbito la Fed, ovvero l'ha portata sotto l'eggita del Dipartimento del Tesoro, questo per avere piena disponibilità monetaria per affrontare, appunto, la crisi. È una cosa incredibile. E Trump, inoltre, non ha rinnovato il trust secolare che avviene ogni 100 anni con la Fed, che doveva essere fatto nel 2016, quindi appena è arrivato doveva farlo e non l'ha fatto. Quindi sono tutte cose che ci fanno pensare, effettivamente, al fatto che quest'uomo sta intraprendendo una strada opposta a quella di molti dei suoi predecessori, non tutti, naturalmente. E il punto è che speriamo che questa cosa venga anche in Europa, che questa Unione Europea, che non è altro che una congrega di banchieri, a questo punto venga un po' assorbita dagli Stati, come sta accadendo con la Fed. Speriamo soprattutto che l'Europa diventi finalmente una nazione, un continente di nazioni libere, cosa che di fatto non lo è più. E per quanto riguarda Trump, altre cose che dobbiamo dire su di lui, me le sono segnate perché sono veramente tante, e Trump sta eseguendo, a mio avviso, una strategia raffinata, una strategia raffinata che, come dire, fa un po', è un po' ambigua con il potere, ed è giusto che sia così, perché essere troppo diretti, poi dopo ti metti il nemico troppo contro, in qualche modo. Il nemico va un po' confuso, infatti se devi bleffare, ecco, fallo fino alla fine, e utilizza magari le stesse armi del tuo nemico. Forse questa è un po' la strategia più giusta da seguire in questo momento, in cui c'è un deep state, un'elite globale, un deep state, che possiede i media e che possiede anche la sanità globale, parliamoci chiaro, insomma. Quindi sono elementi chiave in questa emergenza pandemica globale, per esempio, che stiamo tutti vivendo. e inoltre Trump, e Trump parliamoci anche chiaramente, insomma, si trova anche in una condizione molto particolare, perché ha davanti a sé un popolo che non è soltanto quello degli Stati Uniti, ma un popolo totale, insomma, un popolo planetario, ecco, diciamo così, che è completamente ignorante delle cose essenziali, del denaro, dei meccanismi del denaro, del proprio sé divino, quindi della spiritualità di chi è, del senso della vita, e ignora completamente ciò che sta succedendo, insomma, ai vertici. Molte volte si fida semplicemente dei media e basta, forse comincia a farsi qualche domanda, forse. E questo, naturalmente, perché accade? Perché i media e l'educazione, lo sappiamo, sono in mano a questa elite, a un manipolo di miliardari, che, insomma, seguite i soldi, e capirete sempre subito, che capirete sempre tutto, scusate, e quindi, naturalmente, se i media e l'educazione sono affidati all'elite, il popolo non avrà mai la visione dall'alto delle cose, ma semplicemente sarà buttato da un'emergenza a un'altra, al massimo, e quindi si fiderà del sistema senza avere cognizioni, perché è questo l'obiettivo. E da quando Trump è arrivato alla Casa Bianca, Trump è stato dipinto come un sessista, un razzista, un narcisista, un folle. I media e gli accademici c'erano a morte con lui, e questo, badate, è un ottimo segno, non è un buono, è ottimo. E il motto di Trump, tra l'altro, è sempre stato quello di restituire potere al popolo, e lui, infatti, parlava di smantellare la Nato, smantellare la CIA, del controllo della Fed, in breve distruggere quello che è il nuovo ordine mondiale. E vi ricordate le reazioni isteriche dei media quando Trump è stato eletto? La Giovanna Botteri che andava in TV in Italia diceva, come è possibile? L'abbiamo fatto di tutto per non farlo eleggere? Beh, insomma, quindi capirete che quello che vi sto dicendo è vero. E fino all'arrivo di Trump, Putin stava combattendo da solo l'ordine mondiale. Adesso diciamo che sono in due, ed è un bel tandem in qualche modo, ma non sono i soli. Ci sono sempre più politici che passano dalla parte giusta. Vi assicuro che c'è un fronte contro l'It. E all'inizio del suo mandato, quindi Trump ha adottato un po' un approccio diretto, quello che a suo tempo fece anche JFK, pagando purtroppo con la vita. E Trump infatti si circondò di ribelle in qualche modo. E la reazione del deep state o dell'elite quale fu? Quella di buttarla sull'impeachment, creare prove assurde sul Russia Gate. Quindi questa fu la reazione, fu una reazione veramente inimmaginabile, anche perché i loro piani erano stati sconvolti. E Trump ha cambiato approccio, insomma, e ha cominciato a twittare i messaggi compulsivi, ha cominciato a volte essere provocatorio, ambiguo. Questo proprio per confondere il nemico, soprattutto per confondere i media, perché a questo punto diventa quasi una strategia essenziale. E vi dico per esempio in politica estera cosa ha fatto Trump, che a mio avviso va molto apprezzato. Vi ricordate il discorso della Corea del Nord, quando Kim Jong-un sembrava quello che voleva distruggere il pianeta con le armi nucleari, Trump ce l'aveva a morte con lui, lo definiva Rocket Man, il mondo era sull'orro dell'abisso ancora una volta, un'altra emergenza, ecco. Ebbene, alla fine Trump ci ha fatto pace, la cosa è finita tra luci e vino, come si suol dire, ma perché la Corea del Nord, perché tutta quella enfasi mediatica sulla Corea del Nord? Semplice, erano i piani della Clinton. In pratica, se la Clinton fosse diventata presidente, l'obiettivo era una terza guerra mondiale. Come la potevi scatenare? Attraverso Kim Jong-un, si era già preparata quella strategia lì, quindi in pratica Kim Jong-un diventava il nuovo dittatore da eliminare, Kim Jong-un avrebbe fatto un qualcosa contro la Cina, perché comunque insomma c'erano delle diatribe tra i due paesi ed ecco che magari si sarebbe creato il pretesto per un conflitto globale. Tra l'altro ricordiamo che la Corea del Nord è una delle poche nazioni al mondo che tuttora non ha ancora il denaro debito, quindi voglio dire, i Rothschild non sono riusciti a penetrare in quella nazione e quindi ecco che andava approvata la cosa. E poi la cosa comunque è finita con un trattato di pace paradossalmente, quindi una guerra evitata, quindi abbiamo evitato il terzo conflitto mondiale che si voleva imporre con la Clinton, che è uno di loro. Il Venezuela ancora, allora il Venezuela Trump ha minacciato il paese di Robina, ecco l'ha fatto diverse volte, addirittura ha messo il pupazzo Juan Guaidó alla guida di questo, cioè come presidente Frantoccio, insomma l'ha un po' confermato in questo modo. Il punto è che ha talmente esagerato con i toni e che i paesi vicini al Venezuela, come la Colombia e il Brasile, hanno detto a un certo punto che non volevano avere più niente a che fare con la questione del Venezuela, hanno anche rifiutato l'appoggio, un eventuale appoggio logistico agli Stati Uniti, quindi il risultato è stato un impasse ed è un'altra guerra evitata paradossalmente. Ma andiamo ancora avanti, Israele, un altro capitolo interessante, allora Israele, scusate, allora Israele, Trump gli ha fatto due apparenti regali che in realtà sono due pugnalate vere e proprie, perché? Perché con Israele, lui innanzitutto gli ha detto che Gerusalemme doveva essere la capitale soltanto di Israele e le alture del Golan siriane devono appartenere a Israele. Questa cosa qui in realtà ha scatenato un inferno, era un apparente regalo a Israele, perché? Perché tutti i paesi del Medio Oriente sono messi contro Israele e perfino l'Arabia Saudita che è complice in tante cose, insomma, dal terrorismo a tante operazioni di copertura, insomma, del New World Order, del nuovo ordine mondiale, perfino l'Arabia Saudita si è dovuta schierare contro Israele. e quindi voi capite, insomma, che queste strategie sono, è proprio questo, cioè usare le stesse armi del nemico per avere in realtà l'effetto opposto. L'inaspiramento poi delle sanzioni che Trump ha effettuato contro la Russia, contro la Cina, contro l'Iran, contro la Turchia, contro il Venezuela, e quant'altro, sì, questi paesi qui, esatto, togliamoci il quant'altro, ecco, li sta spingendo, sta spingendo questi paesi, anzi li ha già spinti, fuori da quello che è il sistema finanziario SWIFT, che è il sistema di transazioni tra banche internazionali, quello con l'Iban, per capirci, per cui questi paesi hanno già creato un sistema alternativo di pagamenti sganciandosi dal dollaro e dalle banche internazionali, quindi voi capite come anche in questo caso usare le armi del sistema per squassare il sistema stesso, quindi esagerare talmente tanto che alla fine provochi l'effetto opposto. E Obama in realtà ha fatto l'opposto quando ha incluso Cuba, quindi la realtà l'ha inclusa anche nel sistema SWIFT, quindi Obama ha lavorato egregiamente per le eminenze grigie, come potremmo anche definirli. Occorre infatti a un certo punto, è quello che sta facendo Trump, occorre cavalcare le onde, non infrangersi, imbattersi, perché a quel punto se le onde sono troppo grosse ti spazzano via. Bisogna porre fine naturalmente a quello che è il sistema finanziario, la Nato, l'Unione Europea, lo SWIFT, ma per fare questo è meglio paradossalmente farle implodere. E forse la strategia che sta accadendo anche in Europa, mi auguro, l'implosione, perché, perché insomma, perché sarebbe molto, sarebbe giusto che fosse così. Anche i recenti attacchi all'OMS, il virus cinese, ci fa pensare a una strategia in qualche modo che è in atto da parte di Trump, scusate, e vi dico anche questo, che a mio avviso quello che sta succedendo con l'epidemia che accadrà con la fase 2, con il vaccino, eccetera, eccetera, è l'ultimo tentativo di questa elite per arrivare al nuovo ordine mondiale. e i banchieri già nel 1857 si riunirono e pianificarono tre guerre mondiali per riuscire ad arrivare al cosiddetto nuovo ordine mondiale. La terza guerra mondiale non è più possibile per diverse ragioni e questa terza guerra mondiale a pezzi che stiamo vivendo, di cui anche il Papa ha parlato qualche volta, ecco, unita a questa epidemia e a tutto quello che sta succedendo adesso a livello globale, mi fa pensare alla famosa terza guerra mondiale che loro non sono riusciti, che l'elite non è riuscita a combattere militarmente con gli armamenti ma che adesso sta spostando su altri fronti. È un estremo tentativo per arrivare a un obiettivo finale cui non si arriverà perché comunque anche se c'è un'oppressione globale c'è un fortissimo risveglio delle coscienze, un fortissimo risveglio del popolo e anche al vertice si è formato un movimento trasnazionale contro questa elite contro questa elite scusate. Quindi restiamo positivi soprattutto facciamo molta attenzione alle informazioni di mass media perché i mass media purtroppo lavorano ancora per loro. Detto questo io vi ringrazio, vi saluto, vi ricordo che il mio canale Gabriele Sannino o quello che mi diano e dicono c'è anche la campanella se volete essere avvertiti dei prossimi video. Ciao!